Buongiorno sono le 6.33 in Olanda oggi vi insegnerò come si fa e come si beve l'espresso italiano ho riempito la caldaia con acqua minerale fino alla valvola di sicurezza inseriamo il filtro, questa è la parte più difficile, adesso riempiamo il filtro con il caffè macinato vediamo bene aspettiamo che il caffè è pronto, non vedo l'ora wow, bellissimo è il momento della verità, versiamo l'espresso nella tazzina se invece avete troppa fretta potete fare così buongiorno